Salve a tutti ragazzi, video misterioso, un caccia militare russo pedinato da un UFO che gli passa davanti a velocità ipersonica Partiamo che il video è stato rallentato tanto, ma veramente tanto per permettere, avete visto il passato, di riuscire a vedere il video eccolo qua ragazzi, ma qui già è rallentato al massimo quindi possiamo zoomarlo per vedere, eccolo lì eccolo qua, torniamo un pochino indietro, eccolo lì ragazzi quindi questo oggetto passa questo caccia militare come se fosse nulla quindi gli passa proprio tranquillo ecco qua ragazzi, e qui stiamo alla moviola quindi immaginate veramente se in tempo reale non si vede proprio zero eccolo qua, lo possiamo rivedere sempre comunque con la moviola ragazzi perché se no, buonanotte come sempre io mi auguro che voi lasciate un commento e mi dite che cosa ne pensate secondo voi ragazzi è o non è un UFO quindi sto cercando di andare indietro per cercare di beccarlo nel momento giusto perché purtroppo la velocità di questo oggetto è pazzesca e quindi eccolo qui, non si riesce a riprendere purtroppo come sempre ragazzi lasciate il commento al prossimo video ma soprattutto ragazzi al prossimo mistero grazie a tutti